guarda io macci con tutta la buona volontà non so come aiutarti perché il colloquio non è andato bene non siamo qui da ora non riusciamo guardi faccio l'ultima domanda perché dovrei assumere proprio te beh perché credo di avere tutte le carte in regola per svolgere questo tipo di mansione che lei mi ha descritto sì sì sia competenze tecniche ma anche relazionali perché credo che al giorno d'oggi nel mondo del lavoro la cosa più importante sia mantenere buone relazioni con i colleghi e anche con i clienti esterni perché così si crea un clima favorevole e produttivo che potrà portare questa azienda a fare un grande salto e io credo di avere una grande capacità di problem solving e di autonomia necessarie per portare buoni risultati all'interno dell'azienda e credo pertanto di poter portare un ottimo valore aggiunto a questa già importantissima e funzionante realtà bravo questo volevo sentire complimenti per me sei assunto grazie cosa mi dici le farò sapere grazie benvenuti a maestre chef il primo programma di cucina maestrina io sono chef vianeo da maestre proprietario del più grande ristorante che sia al mondo che sia maestre naturalmente ecco insignato di tre stelle tre stelle quelle dei copertoni a queste stelle budier che entrino i concorrenti forza andai vediamo casa salve chef mi chiamo max faccio il pizzaiolo e ti ho portato la mia specialità oggi la capricciosa come la capricciosa è la capricciosa ma qui ci si è frutti e mare appunto e cosa c'entra i frutti e mare neanche capricciosa che vuoi e i funghi i prosciutto i carciofini cosa c'entra i frutti e mare scusa una pizza che se c'ha ma capricciosa agavano i frutti de mare a capricciosa capricciosa te piace a proposito delle città di mare te piace venesia sì sì mi piace venesia tipo che ti faccia fare un giro del cane grande a schiaffoni dai vai 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 capricciosa capricciosa grazie a tutti Grazie a tutti.